Nel video di oggi 10 nuovi giochi da tavolo che si sono aggiunti alla mia collezione tra novembre e dicembre 2021, tra miei acquisti, regali e materiale da recensire. Ci sono tanti giochi recenti, novità interessantissime che ho acquistato all'ultimo per scoprire se avrebbero avuto un posto nella top 10 dei miei giochi preferiti del 2021 e alcuni effettivamente ci sono entrati. Ve li presento brevemente, poi in descrizione trovate i link per acquistarli comodamente online. Cominciamo subito! Ho sempre apprezzato King Domino ma ovviamente si tratta di un introduttivo molto semplice e non ha mai trovato spazio nella mia collezione. Ma quando ho saputo che King Domino Origins sarebbe stata la versione più complessa e avanzata di King Domino, non me la sono lasciata scappare. Sono presenti tre modalità di gioco, la prima è del tutto simile al King Domino originale, in cui si affiancano tessere con lo stesso territorio e si cerca strategicamente di accaparrarsi le tessere con i simboli fuoco, che erano le corone nella versione originale, per moltiplicare i punti. La seconda modalità aggiunge delle risorse sulle tessere e con una sorta di set collection avrete più punti a fine partita se avrete la maggioranza di una o più di queste risorse. La terza modalità utilizza sempre le risorse che però potete spendere per acquistare tessere personaggio, che a loro volta vi daranno punti in base al loro posizionamento sul territorio. Se conoscete King Domino ma è troppo semplice per voi, potete dare un'occhiata a King Domino Origins. Un altro gioco che mi è sempre piaciuto ma che non ho mai avuto in collezione fino a che non mi è stato regalato per Natale è Dragon Castle di Horrible Guild per 2-4 giocatori. Si ispira alle tessere del Mahjong, bisogna prelevare secondo alcune regole delle tessere dal tabellone centrale e posizionarle sulla nostra plancia. Solo quando avremo affiancato 4 o più tessere dello stesso colore potremo consolidarle, ovvero voltarle a faccia in giù per poter posizionare templi e avere più punti, oppure costruire livelli superiori di maggior valore. È un gioco molto sfidante e con materiali bellissimi, è di fatto un puzzle astratto in cui pianificare lo sviluppo della propria plancia in base agli obiettivi che sono in gioco e alle tessere a disposizione. Un secondo regalo di Natale è stato Santa Monica di Little Rocket Games, un gioco in cui ricreare la città di Santa Monica fatta di spiagge e di un quartiere commerciale. Dovremo creare tutte le attrazioni possibili per far divertire i turisti e la gente del luogo. Di fatto in sostanza è un altro gioco astratto, un puzzle game in cui posizionare carte in modo da creare catene di simboli uguali adiacenti. In base alle carte a disposizione che vi contenderete con i vostri avversari dovrete fare la scelta migliore per risolvere i molteplici obiettivi in gioco. In descrizione trovate tutti i link per acquistare comodamente online i giochi citati oggi, vi segnalo solamente che si tratta di link di affiliazione, quindi se deciderete di usarli per voi non cambierà nulla, a me arriverà una piccola percentuale fondamentale per continuare a pubblicare video su questo canale. Ora proseguiamo con i nuovi giochi. L'anno 1800 di Martin Wallace, edito dai giochi uniti, è ispirato all'omonimo videogioco e si è già meritato un posto all'interno della mia classifica dei migliori giochi 2021. È un gioco gestionale all'ennesima potenza perché la maggior parte del tempo la passeremo a posizionare lavoratori di vario tipo all'interno delle nostre industrie per produrre risorse che spenderemo per costruire nuove industrie e così via in una catena che sembra non finire mai. Lo scopo del gioco è arrivare a produrre merci complesse che ci permetteranno di giocare carte dalla nostra mano e in questo modo ottenere punti. Il gioco termina quando un giocatore gioca l'ultima carta della sua mano, ma bisogna fare attenzione perché quando si ottengono nuovi lavoratori si ottengono anche nuove carte in mano. Bisogna trovare il numero giusto di lavoratori senza esagerare e capire quando conviene comprare risorse dagli avversari piuttosto che costruirsi da soli l'industria che produce quella risorsa. È un gioco perfetto per gli amanti dei gestionali. Sono sempre incuriosita dai giochi per due giocatori e Mantis Falls è proprio un gioco pensato per due anche se è giocabile fino a tre e portato in Italia da Fever Games. Tra l'altro si tratta di un gioco di blef per due giocatori che è una cosa molto insolita. Ai due giocatori vengono assegnati segretamente dei ruoli. Nella cittadina di Mantis Falls è stato commesso un delitto. La partita può essere cooperativa se ci sono in gioco due semplici testimoni oppure competitiva se in gioco c'è un testimone e un killer che vuole uccidere il testimone prima che vada alla polizia. Purtroppo non sappiamo quali sono le reali intenzioni del nostro compagno di gioco. Lungo la strada faremo incontri spiacevoli, rischieremo di morire ed è in queste situazioni che dovremo cercare di capire se chi abbiamo di fronte è con noi o contro di noi, ma potrebbe essere troppo tardi. È un gioco molto originale e molto coinvolgente che potrebbe farmi ricredere sui giochi di blef che non ho mai amato particolarmente. Acquistato di recente si è subito fatto largo tra i migliori giochi del 2021. Paper Dungeons è un gioco roll and write edito da dv giochi che porta una ventata di freschezza in questo genere. È un piccolo dungeon crawler su un foglio di carta. Abbiamo a disposizione quattro eroi, un guerriero, un mago, un chierico e un ladro che dovremo far muovere lungo il dungeon per affrontare pericoli e cercare tesori. Vincerà chi ucciderà più mostri e collezionerà più ricchezze. Tireremo dei dadi ad ogni turno e dovremo decidere se usarli per far muovere gli eroi lungo il dungeon, per far avanzare di livello gli eroi, per creare pozioni curative oppure oggetti magici che ci daranno dei bonus. In ogni stanza possiamo trovare trappole, mostri da affrontare o tesori da raccogliere e in tre stanze in particolare troveremo dei boss sempre più potenti che dovremo affrontare con la forza del gruppo alla fine di ogni round. Per essere un gioco su carta mi ha stupito per quanto possa essere divertente e appassionante. Si sente addirittura un certo senso di progressione nella storia e nei personaggi. Un ottimo lavoro che rivitalizza un genere, quello dei roll and write, che già mi piaceva molto. Infatti trovate già una classifica dei migliori roll and write sul mio canale. Come forse sapete per Natale mi sono auto regalata Food Chain Magnate, finalmente arrivato in edizione italiana grazie a MS Edizioni. Il gioco si è già conquistato un posto altissimo nella classifica dei miei giochi preferiti del 2021. Vi lascio un link in alto e in descrizione per andare a vedere quella classifica. Siamo dei gestori di una catena di ristorazione, dobbiamo innanzitutto strutturare la nostra azienda, assumere e formare il personale. Poi lanciare campagne pubblicitarie per far venire la colina in bocca ai clienti della zona, sperando che vengano a mangiare da noi per cena. In quel momento dovremo anche essere competitivi sul mercato, formulando la migliore offerta commerciale. È un gioco molto complesso con una grande interazione su mappa e con tantissime possibilità strategiche perché le strade che potremo percorrere sono molteplici. Dune Imperium è un nuovo gioco ispirato all'universo di Dune edito da Asmodee. Le varie casate competono per il controllo della spezia. Lo scopo del gioco è ottenere punti, che si ottengono principalmente creando alleanze con le fazioni e vincendo conflitti militari. Ogni giocatore ha una scheda personaggio che gli conferisce un'abilità unica. Il gioco unisce meccaniche di deck building, ovvero di creazione e potenziamento del proprio mazzo di carte, piazzamento lavoratori per la selezione delle azioni e maggioranze per i conflitti di fine round. È quasi un manuale del gioco da tavolo che usa alcune tra le più comuni meccaniche, anche se non sempre si riesce a sfruttarle appieno, soprattutto dovendo dividere le carte tra quelle da usare per il piazzamento lavoratori e quelle da usare per il deck building. Gioco adatto per chi ama la commistione tra più meccaniche e consigliabile da tre giocatori in su. Codex Naturalis è un piccolo gioco di carte da 2 a 4 giocatori edito da Cranio Creations che sta tutto in una bellissima scatola di latta. Ad ogni turno si possono giocare e acquisire nuove carte. Sugli angoli di queste carte troverete delle risorse che corrispondono ai vari regni della natura. Le risorse che rimangono visibili sul tavolo di fronte a voi si possono utilizzare per acquistare nuove carte, che una volta giocate però potrebbero coprire e quindi rendere indisponibili alcune delle risorse che avevate. È necessario bilanciare bene quali carte giocare e quali risorse coprire. Lo scopo è poter acquistare le carte più potenti che danno punti e posizionare carte e risorse in modo da risolvere gli obiettivi che cambiano ad ogni partita. Un piccolo puzzle game molto sfidante e con bellissime carte luccicanti, molto originale e tascabilissimo. Altra novità è il nuovo gioco di Uwe Rosenberg, Allertau, disponibile in Italia da gennaio grazie ad Asmoday. Torniamo ad affrontare un tema caro a questo autore, ovvero la vita campestre, la coltivazione e l'allevamento, e lo facciamo con un titolo corposo che effettivamente ricorda i migliori giochi di Rosenberg. Con una forza lavoro crescente dovremo sviluppare la nostra fattoria e le sue attività principali, l'allevamento di pecore, la coltivazione di luppolo, orzo, grano, lino e la produzione di materie derivate. Il meccanismo di base è un piazzamento lavoratori sul tabellone centrale per selezionare azioni dal costo crescente ad ogni utilizzo. Sulla nostra plancia invece portiamo avanti l'allevamento e la coltivazione con un interessante meccanismo di rotazione dei campi che aumentano o diminuiscono la loro produttività in base a quanto vengono usati. Inoltre carte bonus di quattro tipi differenti possono essere giocate per ottenere punti, rendite o benefici una tantum. A fine turno solo se avremo le risorse sufficienti per sostenere tutte le nostre botteghe potremo effettivamente aumentare la produttività della nostra fattoria. Allertau è un gioco complesso in cui bisogna calcolare con estrema precisione tutte le risorse di cui avremo bisogno a fine round e in cui si cerca una specializzazione in linea con le carte che vogliamo giocare. Personalmente non vedo una grandissima novità rispetto a titoli precedenti ma se amate questo autore è sicuramente uno dei suoi giochi più riusciti degli ultimi anni. Prima di andare via scrivetemi nei commenti quale di questi giochi vi interessa di più e di quale vorreste vedere un tutorial. Fatemi anche sapere qual è l'ultimo gioco da tavolo che avete acquistato. Alla prossima e buon gioco!